Un'ottantina di mini atleti accompagnati dai rispettivi genitori hanno animato gli impianti della Padova Nuoto per la disputa del campionato provinciale di Pentatron, un Open per le categorie agonistico-promozionali che ha coinvolto anche le scuole medie della Val Gimigli di Albignasico. Mini atleti impegnati nelle categorie pulcine, mini cuccioli, cuccioli esordienti e ragazzi, nelle specialità della corsa e del nuoto maschile e femminile, che si sono affrontati nell'accogliente parco tra il verde della Padova Nuoto, nel percorso appositamente allestito per la sfida dei ragazzi impegnati per un pomeriggio nel Pentatron, grazie al lavoro di Alessandro Colomba, Fabio Cogo e dai professori di educazione fisica Roberto De Vivo e Giulia Lilla. Una disciplina olimpica, quella del Pentatron, praticata in Veneto soltanto da due società, il Montecchio e la Padova Nuoto, grazie anche all'impegno del Pianeta Scuola per una disciplina olimpica che veniva praticata in forma massiccia sin dall'antica Grecia e che oggi si involge tra i giovani in due discipline, il nuoto e la corsa, ma che a livello olimpico prevede anche la scherma, il tiro a segno e l'equitazione. Un trofeo collaudato che ha preso avvio con la corsa nell'accogliente tracciato preparato nel verde del parco della Padova Nuoto e poi all'interno della piscina Grassetto, dove i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 15 anni si sono dati battaglia per conquistare la singola vittoria di categoria. Certamente un impianto storico come questo che accoglie una manifestazione di Pentatron è una cosa molto importante, è una federazione molto difficile, è uno sport fatto da 5 specialità molto complicato, si cercano nuovi giovani che si avvicinano e che amano fare diversi sport assieme. Importante è non avere l'abbandono, importante è fare capire ai ragazzi che lo sport è un grande momento di crescita e credo che con queste manifestazioni si voglia far conoscere anche che esistono tanti punti di divertimento dello sport. Grazie a tutti! Grazie a tutti! forze dalle forze armate, cioè dagli atleti delle forze armate ed è molto più difficile per società perché racchiude nuoto, corsa, scherma, equitazione e credo che quindi è complicata, però certamente è bella se ha continuato a vivere nella storia anche come con attività olimpica. Sesto trofeo al quale hanno partecipato i ragazzi di Padova, Modena e Portenone, che ha servito soprattutto per far conoscere una disciplina sportiva che vuole affermare tutti quei valori che lo sport in generale trasmette per un leale confronto ed un impegno per il raggiungimento di un obiettivo incentrato in primis nella socializzazione. Questi sono anche i valori che Antonio Lilla, a cui entestato il trofeo, da sei anni ha saputo trasmettere alla figlia Giulia, che ora in veste di docente sa trasferire anche i suoi alunni, così come ha fatto con la sua folta scolaresca presente alla Padova nuoto per questa edizione del trofeo di Pentatron, conclusosi con la premiazione degli atleti vincitori delle singole categorie. Grazie a tutti.